Ehi Luca, guarda, scusa, il ristorante non è fatto nulla. Tu riprendi questa bella guardia, una roba mia, che a me che ci ripugno tutta la stagione rovino, ma è riprendita. Nel senso che se è una nicchia, rimane una nicchia, ok, ma si può una nicchia, diventa una galleria, io non ci sto più. Se io spieghi, non vissi tutto. Quando io rego la pista di Cossè, questo intende dire, è di me. No, è una associazione di responsabilità, come ho sbagliato lui, perché io ci sono stato esatto. E poi c'erano, non so che fanno i ragazzetti quando... Ah, me l'hai detto tu. E c'erano dieci cinesi che le facevano sto. Figgiolo, ma una fabbrica immensa. Viene al nenologo a farci, guarda, un mercato richiede, questo dovete intervenire sul vino in questo modo. E va a fare un colpo, che si becca al nenologo. Fisca. Comunque, diciamo, miglioramento, fantasia, affetto... Un cu, un cu è la passione. E non è sufficiente. Ma... E' impossibile basare, diciamo, una produzione su un cu. E niente, io comunque faccio il lago dell'abitancio tra i due, perché loro litigano sempre e poi io... Comunque, dato che si decida maggioranza... E poi... Determinante. Determinante, sì. E niente, comunque è una bella storia. E niente, comunque è una bella storia.